Un'area di atterraggio per il soccorso sul territorio comunale posta all'interno dell'area esterna alla palestra purivalente in Viale degli Alpini, nonché un passaggio di collegamento di emergenza tra il centro storico e il parcheggio coperto e l'ambiziosa iniziativa sulla quale sta lavorando l'amministrazione comunale di Scanno che, dopo aver approvato il progetto preliminare, ha affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva dei lavori, nonché l'incarico per la progettazione architettonica e strutturale. Un'opera che ha un costo di circa 200 mila euro ottenuti con i fondi PAR FASC 2007-2013. Si tratta di progetto strategico in tema di sicurezza, emergenza, protezione civile, soprattutto in termini di sanità, di prossimità e territoriale, troppo spesso sconnessa con la realtà ospedaliera e con i centri più grandi. La pandemia in tal senso non ha proprio insegnato nulla. Secondo le stime l'opera potrebbe essere pronta per la primavera del 2023, anche se i tempi sono ancora da definire.